Miss Martha Misham gestiva la piccola panetteria all'angolo, quella dove deve salire tra i gradini, e il campanello Tintin quando apri la porta. Miss Martha aveva 40 anni. Il suo libretto di risparmio mostrava un credito di 2000 dollari e possedeva due denti finti e un cuore comprensivo. Un sacco di gente, le cui opportunità di sposarsi erano assai minori di quelle di Miss Martha si era accasata, ma lei no. Due o tre volte alla settimana veniva un cliente per il quale lei cominciò a provare un certo interesse. Era un uomo di mezza età che portava gli occhiali e una barba castana spuntata con cura. Parlava inglese con un forte accento tedesco. I vestiti erano logoli e ramendati in certi punti e cascanti e pieni di grinza in altri. Però aveva un'aria pulita e aveva delle buonissime maniere. Comprava sempre due pagnotte di pane raffermo. Il pane fresco veniva a 5 centesimi la pagnotta. Due di quello raffermo ne venivano 5. Non chiedeva mai niente se non pane raffermo. Una volta Miss Martha gli vede una macchia rossa e marrone sulle dita. Allora fu sicura che era un artista e anche molto povero. Senza dubbio viveva in una soffitta dove dipingeva dei quadri e mangiava pane raffermo e pensava alle cose buone da mangiare che c'erano nella panetteria di Miss Martha. Spesso quando Miss Martha si accomodava a mangiare le sue costolette e il suo rollè e la marmellata e il tè, allora sospirava e desiderava che quell'artista dalle maniere gentili potesse condividere con lei il suo pasto prelibato invece di mangiare le proprie croste secche in quell'attico pieno di spifferi. Il cuore di Miss Martha, come vi si è detto, era un cuore comprensivo. Per verificare sia la propria teoria che il mestiere di lui, un giorno dalla sua camera portò un quadro che aveva comprato a una vendita all'asta e lo sistemò sulle mensole dietro il bancone del pane. Era una venduta di Venezia. Al centro, o meglio in mezzo all'acqua, si stagliava uno splendido palassio di marmo, così c'era scritto sul quadro. Quanto al resto c'erano delle gondole con le damme che stracicavano la mano nell'acqua, nuvole, cielo e chiaroscuro in abbondanza. Nessun artista avrebbe omesso di notarlo. Due giorni dopo entrò il cliente. «Tue pagnotte di pane d'affermo, per favore! Ha qui un bel quadro, madame!» disse mentre lei abolgeva il pane. «Sì!» disse Mir Marta, congolando per la sua astuzia. «Oh, adoro tanto l'arte! E no, non va bene dire, e gli artisti, così presto! E i quadri?» disse invece. «Pensa sia un bel quadro!» «Suo bilanciamento», disse il cliente, «non è dissegnato giusto! Sua prospettiva non è reale!» «Buona giornata, madame!» Prese il suo pane, fece un inchino e si affrettò ad uscire. «Sì, doveva essere un artista!» Miss Marta riportò il quadro nella sua stanza. Come brillavano gentili e dolci i suoi occhi da dietro gli occhiali! Che fronte ampia che aveva! Essere capaci di valutare la prospettiva colpo d'occhio e campare di pane d'affermo. Ma spesso il genio deve lottare prima di ottenere il dovuto riconoscimento. Che cosa sarebbe per l'arte la prospettiva se il genio venisse sostenuto da duemila dollari in banca, una panetteria e un cuore comprensivo. Ma questi erano sogni a occhi aperti, Miss Marta. Ora, quando veniva, si metteva sovente a chiacchierare dall'altra parte del bancone per un po'. Sembrava agognare le parole allegre di Miss Marta. E continuava a comprare del pane d'affermo. Mai una torta, mai una crostata, mai uno dei suoi deliziosi di Sally Lan. Lei pensava che stesse cominciando a dovere un'aria più magra e scoraggiata. Il suo cuore desiderava ardentemente aggiungere qualcosa di buono da mangiare al suo misero acquisto, ma le mancava il coraggio di agire. Non osava offenderlo. Conosceva l'orgoglio degli artisti. Miss Marta vese a indossare dietro il bancone la sua camicetta di seta a pua blu. Nella stanza sul retro cucinava un misterioso miscuglio di semi di melacotonia e borazze. In tanti lo usano per la pelle. Un giorno il cliente entrò come al solito. Appoggiò il nichilino sulla vetrina e chiese le sue pagnotte rafferme. Mentre Miss Marta gliele stava prendendo, ci fu un gran rumore di sirene e un gran clangore. E un caro dei pompieri passò trascinandosi a fatica. Il cliente accorse alla porta a guardare, come farebbe chiunque. All'improvviso ispirata Miss Marta colse l'occasione. Sul ripiano più in basso, dietro il bancone, c'era una libra di burro fresco che l'uomo del caseificio aveva portato dieci minuti prima. Con un coltello da pane Miss Marta fece un taglio profondo a ciascuna delle pagnotte rafferme. L'inserì una generosa quantità di burro e riscacciò per bene le pagnotte. Quando il cliente si girò di nuovo, le stava avvolgendo nella carta. Quando se ne fu andato, dopo una chiacchieratina insolitamente piacevole, Miss Marta sorrise dentro di sé, non senza una lieve palpitazione del cuore. Era stata troppo audace. Si sarebbe offeso, ma certo che no. Non c'era nessun linguaggio dei cibi. Il burro non era un emblema di sfrontatezza indegna di una fanciulla. Quel giorno la sua mente si soffermò a lungo su quel soggetto. Immaginò la scena di lui mentre scopriva il suo piccolo inganno. Avrebbe posato tavolozza e pennelli. Si sarebbe stato il cavalletto con il quadro che stava dipingendo, la cui prospettiva era al di sopra di ogni critica. Si sarebbe preparato il suo pranzo di pane secco ed acqua. Avrebbe tagliato una pagnotta e... Ah! Miss Marta arrossì. Mentre mangiava, avrebbe pensato alla mano che glielo aveva messo. Avrebbe... Il campanello della porta d'ingresso tintinnò con brutalità. Stava entrando qualcuno facendo un sacco di rumore. Miss Marta accorse al bancone. C'erano due uomini. Uno era un giovane che fumava la pipa, un uomo che non aveva mai visto prima. L'altro era il suo artista. La faccia di lui era completamente rossa, il cappello sistemato all'indietro e i capelli selvaggiamente arruffati. Serrò i pugni e li agitò con violenza contro Miss Marta. Contro Miss Marta? Dunckopf urlò con estrema rumorosità e poi Tausentorfer o qualcosa di simile in tedesco. Il giovane cercò di allontanarlo. Non me ne fado, disse con rabbia. Viene defotire altre. E trasformò il bancone di Miss Marta in una gran cassa. Lei mi ha ruffinato, gridò con gli occhi azzurri che gli ardevano dietro gli occhiali. Glielo dico, sei una infatente fecchia cataccia. Miss Marta si appoggiò debolmente contro i ripiani e posò una mano sulla sua camicetta di seta a pua. Il giovane prese l'altro per il bavero. Andiamo, disse. Ha parlato anche troppo. E trascinò il buomo di rato fuori dalla porta fino al marzapiede e poi tornò indietro. Ritengo che glielo si debba dire, signora, disse. La cosa è dovuta alla baruffa. Quello è Bloomberg. È un disegnatore architettonico. Io lavoro con lui nello stesso ufficio. È da tre mesi che sta lavorando sodo a disegnare un progetto per un nuovo municipio. Era per un concorso. Ieri ha finito di ripassare a inchiostro le linee. Sa, un disegnatore fa sempre il disegno prima, a matita. Quando è finito, cancella le linee a matita con una manciata di briciole di pane raffermo. È meglio della gomma di china. Bloomberg ha sempre comprato il pane qui. Beh, oggi. Ma sa, signore, che il burro non è... Beh, il progetto di Bloomberg adesso è buono solo per avvolgere i panini della stazione ferroviaria. Miss Marta andò nella stanza sul retro. Si tolse la camicetta di seta a poa blu e si mise il vecchio sergé marrone che indossava di solito. Poi versò il miscuglio di borazze e di semi di mela cotogna nella patumiera fuori dalla finestra. Grazie.